E' così, la dialettica tra politica e pubblica amministrazione è quando le persone coinvolte sono oneste, è non buona, è indispensabile proprio per permettere questo tipo di interventi di controllo e di vigilanza e se vogliamo anche di vigilanza reciproca, però il problema è che non si ottiene niente se non si recupera il punto di partenza e cioè una cosa, passatemela perché è fuori moda, ma si chiama senso dello Stato, si chiama senso del servizio pubblico che si sta svolgendo in quel caso. Io ho incontrato proprio nei giorni scorsi una fortissima delegazione di dipendenti del Comune di Roma che mi manifestavano proprio con sofferenza il fatto che essere persone motivate, serie, che credono in quello che fanno, che credono nell'utilità sociale del loro lavoro, a volte è davvero disincentivante o disincentivato in strutture che sono in realtà molto perverse, che premiano questi pessimi comportamenti. Allora io e proprio a quelle persone sane, tante, che stanno nella pubblica amministrazione che vorrei rivolgere, non lasciatevi cadere le braccia, continuate a dare il vostro esempio e naturalmente aiutate le persone per bene, come ci sono dei consiglieri comunali o comunque dei politici che sono onesti, pure loro, pensate un po' e cerchiamo di davvero snidare queste sacche di illegalità, anche perché non si tratta soltanto come dire, vabbè, una bravata oppure vabbè io con una certa acquiescenza cerco di non rendermi nemico ai miei colleghi e quindi timbro anche per loro. Questa si chiama truffa ai danni dello Stato, perché è un vero e proprio furto. E questa è l'accusa. Io sto sottraendo delle risorse pubbliche, allora è una cosa in sé gravissima, che fa un doppio danno perché oltretutto appunto demotiva le persone per bene che pure ci stanno. Guardate, adesso stiamo per andare a votare, non conta perché andiamo a votare, conterà lo spirito con cui lo facciamo. O ci si riprende in mano sul serio il nostro paese, ciascuno lo faccia con le opinioni che crede, ma dobbiamo tornare a credere nel fatto che la pubblica amministrazione, che le cose pubbliche, che le istituzioni hanno una funzione, altrimenti io credo non si vada a nessuna parte.